C'è stato un'emozione grandissima? Devo dire che sono stati tre anni molto impegnativi, però anche pieni di soddisfazioni. Ho imparato moltissimo, ho trovato quella che considero la mia seconda famiglia, tutti i miei compagni, i miei insegnanti. Devo dire che sono molto grata per questa opportunità, quindi per me il Teatro Verdi è una scuola di vita di teatro e una seconda crescita. Grazie a tutti.